Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraft Ita 522esimo episodio di Minecraft Ita, quinta stagione Oddio, ogni volta che inizio è sempre peggio, vi giuro, arriveremo al, penso all'episodio meno 700-800 che non so, mi lancio da un paracadute con la foga sempre maggiore Però va bene lo stesso perché! Ok, allora, che cosa devo dirvi? Raduno, mi avete chiesto in tantissimi di fare un nuovo raduno su un server perché era da tanto che non ne facevamo, circa un paio di settimane, forse anche tre E quindi ragazzuoli, sì, ci vediamo su Funny Adventure, vi lascio l'IP in descrizione, quindi collegatevi, mettete mi piace al video, finitevi di guardare, collegatevi e ci vediamo tutti per registrare insieme una puntata dei raduni Quindi, mi raccomando, venite numerosi, è un sito molto carino, faremo delle Skyworks, sono Skyworks interessanti, le ho già provate, quindi tanta roba, mi piace, è interessante Detto questo, altra cosa fondamentale, fondamentale è che registrerò il video, ovviamente, non so se uscirà alle 6 di oggi pomeriggio, quindi alle 6 o alle 7 di oggi oppure domani alle 6 Per motivi logistici, perché ho un altro video da postarvi e devo postarvelo il prima possibile perché sono una persona più euforica del mondo, però, va bene, se sono veramente euforico No, fanculo tutto, adesso andiamo a creare la struttura di oggi Allora, vorrei un attimo precisare che la struttura... Ok, vediamo certi messaggi, proprio i peggiori messaggi, quando meno te lo aspetti arrivano certi messaggi e tu dici ma porca, 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 ma porca, ma porca troia Ok, 1 e 2, vediamo fino a dove arriva l'acqua Ok, lì è massimo dove dovremo coprire un range di zona interessante perché... Gagliardo, ma mi spinge uguale? Oddio, che figo, è meraviglioso, è fotonica sta cosa, mi piace davvero tantissimo Non ha pensato a come potrò uscire io, in effetti non c'ho minimamente pensato Eh, faccio così, scusate Epp, esatto Adesso oggi andiamo a costruire, a creare un collettore di mo... Un cond... no, condensatore, no, condensatore non c'è tra un cazzo Un coll... no, un raggruppatore di mob Un mob, l'avevo trovato un nome perfetto da dargli Ma non ci sono... oh, questa zona però non la prende purtroppo Eh, è un po' problematico il fatto che... Eh, eh, sì, 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 allora dobbiamo inventarci qualcos'altro, vediamo un po' Allora ragazzi, che cosa sto facendo? Sto creando questa sottospecie di conca per racchiudere un sacco di mob Adesso perché sto facendo questo? Adesso ve lo spiego, signori, bisogna fare una roba del genere Ecco qua così, poi lo facciamo anche da quest'altra parte e poi via Perché mi serve per il creeper super caricato? Esatto, è arrivato il momento di farlo esplodere Perché? Perché sì, perché oggettivamente non aveva senso Poi abbiamo anche la farm, quindi noi possiamo tenercelo tranquillamente Perché cazzo adesso fai così e non mi vieni dentro... Eh, no, eh No, vabbè ragazzi Però è anche colpa vostra perché sui doppi sensi ci giocate voi Nel senso, io posso capire che ogni tanto qualche cosa che ha... equivoco Ha, diciamo, sì, esatto, significato, ha significato equivoco Ce la posso anche mettere, c'è... no! No! No, 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 no Bestia? Ma proprio no, ma guarda... Eh, appunto, no, non penso sia il caso È passato diverso tempo dall'ultima clip, direi davvero tanto tempo E questo è il risultato, che cosa ho creato? Ho creato questa piattaforma in cui i mob scendono E se rimangono qua, purtroppo non... cioè, a forza di muoversi in tutti i casi Verranno portati qua dalla corrente e stazioneranno qua, fermi Non si muoveranno più, ok? E avranno quindi questi 4... questi spot Per cui non andranno più a muoversi, ok? Sono 4 spot disponibili in cui questi hopper poi raggiungeranno e raccoglieranno il tutto Ok? Ci siamo 4 spot Eh... attivando il mio meccanismo Raggrupperò una quantità di mob, penso, notevole Adesso lo andiamo a provare immediatamente Vediamo quanti mob riesco a far scendere e raggruppare in questo punto, ok? Penso siano una quantità abbastanza ingente Basta fare una roba del genere Basta collegare questo coso qua Appena escono tutti gli item Dovrebbe passare questo da quest'altra parte Esatto, e fare una roba del genere Perfetto Partire il segnale ed è tutto, tutto, secondo la norma Adesso dovrebbero iniziare a cadere le bestiole Allora, quelle che... eccole qua Guardate un po' quante sono Quindi noi dobbiamo andare ad impedire questo meccanismo Dobbiamo andare a creare un buffer di raccolta Anche per questa parte qua Poi andremo a rimettere insieme quello normale Ok, da qui quindi Iai massima, basta soltanto fare una roba del genere Basta togliere questo coso qua E basta mettere una cesta Voglio aprire un attimo qua sopra Per vedere che cosa c'è Assolutamente niente Buono Ok, riprendiamo anche questo Perfetto Basta riprenderci un attimo il nostro cosino qua Ci andiamo a mettere due cesta alla fine E li lasciamo qua Andremo ad accumulare tutta la roba in eccesso Tutta la roba in eccesso Che poi ci andrà ovviamente a raccogliere anche teste E' inevitabile Che noi andremo a raccogliere numerosissime teste E questa è una figata Questo continua ad updatearsi È perfetto Un meccanismo davvero fenomenale Meraviglioso Qui me l'avete detto in tantissimi È scappato lo slime Purtroppo Dobbiamo rimuovere tutto Dato che lo slimino non c'è più E vabbè E ora ragazzi È durato tipo da Natale a Santo Stefano Un giorno Un cazzo Come un gatto intangenziale Oppure come volete voi La metafora la scegliete arbitrariamente Non è importante In tutti i casi Quello che voglio dirvi È che purtroppo Non c'è più È morto È morto È finito È morto Vabbè La mia idea è proprio quella Di far implodere il server Ma che vuol dire implodere il server? Perché finché non vedo che lagga Proprio pesantemente io Quel creeper Non ce lo lascio andare di sotto Sì è chiaro il concetto Poi dovremo creare una botola Per cui I mob Cioè decido io Quando far cadere il mob Ok Dovrò utilizzare una pozione L'invisibilità Per forza Necessariamente Che se no è un casino Salta Bravissimo Non è saltato Una botola Sì una pozione L'invisibilità In modo tale Da potermi trammuovere tranquillamente E tutto il resto Tanta tanta roba Adesso dormiamo Velocemente E ce ne torniamo Subito Subito Alla farm a modificare Ragazzi Guardate quanto cazzo lagga Adesso andiamo a staccare Un attimo il meccanismo Proprio 30 secondi Ok perfetto No vabbè Sono quanto Sempre a 60 fps Sì No vabbè Sì 60 fps fissi Però Gli hai massima Guardate la gente che c'è No boia Sono tanti eh Cazzo se sono tanti Ok questo è quello Che non doveva succedere E che è successo Che un creeper È esploso E ha mandato A fare In culo Tutto Andiamo a vedere Se funziona il sistema di chest Eeeh Peccato Sti creeper rompono Estremamente I gabbasisi Però funziona Cioè il bello è che Proprio la farm In tutta la sua completezza Funziona Voglio farla storta Sta scala Stavolta Non prende così male Prendi anche questo Fai così 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 Ok perfetto Hop 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 Vediamo un po' E se io la cassa Non ce la metto Ovviamente Ovviamente Ripeto Non ci può essere Nulla di particolare Anche se l'hopper Gli stiamo riempendo Non più di tanto Probabilmente mancherà Qualche item Da riempire Nei vari stack E stack Di roba Che possono Essere contenuti All'interno Del nostro storage Bim Facciamo due casse Riprendiamo sta roba E le andiamo a mettere qua Quindi abbiamo ripreso Tutto lo storage Perfetto Tanta roba Poi le andremo a togliere Successivamente Quando capiterà E ovviamente no Adesso i mob Non possono più morire Restano soltanto Quelli Vabbè Si muoiono Quelli che soffocano Ma nient'altro Di più Nulla di particolare E quindi Vabbè Ok Punti in più Per noi Sicuramente Non avremo di questi problemi Adesso andiamo a costruire Un attimo sta passerella Andiamoci a fare un attimo Le wooden trapdoor Perché almeno posso attivarle Come mi pare piace Ecco ne abbiamo fatte due Perfetto Rimuoviamo la crafting table Andiamo a fare il passaggio sopra Per trasportare ovviamente Il nostro creeper super caricato Dobbiamo preparare tutto Deve essere tutto studiato Nei dettagli Meglio dell'altra stagione Perché alla fine L'altra volta Non avravamo riusciti Benissimo nel nostro intento Perché c'erano stati I piccoli problemi Questa volta Non ci dovranno assolutamente Essere Modifiche effettuate Quindi manca davvero pochissimo Manca soltanto mettere Delle passerelle Cosa che andremo a fare attualmente ora Attualmente ora sono la stessa cosa Lo so Però Passatemi la Ok Allora questo come funziona Ho messo a posto Tante tante belle cose Adesso vi faccio vedere Qua dobbiamo ovviamente Chiudere il tutto Perché lui non deve capire un cazzo Deve soltanto eseguire Quello che gli dico io Quindi vai lì E lui segue Va lì Praticamente Lo spingerò io Anche con la pozione dell'invisibilità Non sarà di certo un problema Lo dobbiamo fare Da questo punto salire Lui non deve assolutamente Avere possibilità Di scavalcare il valico E quindi entrare qua dentro Perfetto La stessa cosa dovremmo fare Da quest'altra parte Ovviamente In questo modo Lui non deve avere modo Di cadere O entrare nella mischia Insieme agli altri È un casino Se lui entra con gli altri È praticamente finita Cioè finisce l'avventura Addio Ciao Nessalam Ci vediamo L'anno prossimo Cioè praticamente mai Dovrei aspettare un altro Creeper super caricato E questo potrebbe darmi Abbastanza fastidio Ok io non posso fare nulla Non posso saltare Non posso scappare In nessun modo Mettiamo delle torce Per evitare che spawnino mob E che possano darci fastidio Quindi se io riesco a guidarlo In questa zona È fatta Il Creeper Arriverà sicuramente A destinazione Una volta arrivato qua Ok dovevamo È giusto che io Abbia rotto questa parte Perché devo Completare il tutto Metto degli slab sopra E gli ai massimi Così perché mi va Una volta che sono riuscito A spingere il Creeper Qua sopra Chiudo questo Me ne vado qua Lo accendo Apro E mi godo Lo spettacolo Mi è rivenuto il termine Che avevo iniziato Che avevo trovato all'inizio Mob accumulator Gaza un sacco Sì questo sarà Il mob accumulator Una sottospecie di Tanta roba No il fatto che Sì Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Mi arriva un messaggio Devo leggerli per forza Perché Queste ne sono quasi Vito di morte No scherzo Però sono importanti Detto questo Che cosa sta succedendo No che sta Io perdo il filo Del discorso Poi mi perdo Incazzate E non riesco Ah si mob accumulator Figata Perché per i Creeper Super caricati È una cosa meravigliosa Con sta struttura Una sopra Lo converti Da mob grinder A mob accumulator Fai tutte le due belle cose E salam Funziona Adesso lo andiamo a riprovare Nuovamente Andando a rinserire Questo pezzo di redstone Ovviamente C'è l'automatismo Con una leva Mettiamo il tutto Facciamo partire La roba Vediamo se funziona Ok Stanno iniziando Sta iniziando Oggettivamente A laggare A merda Ok La gente che cade lì Ovviamente si schianta E muore Quelli che vanno sotto I ragno e fotte sega Perché non ci interessano Minimamente Stanno morendo malissimo Se ne stanno andando Tutti sotto Guardate che spettacolo Sperando che non esplodano Creeper È meraviglioso ragazzi Sta funzionando Vi giuro sta funzionando Funziona Funziona Perfetto In tutti i casi ragazzi Penso che per questo video Possa essere tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Se vi è piaciuto Iscrivervi al canale Se avete già fatto Di condividere le video su Facebook Che fammi c'erano le persone Mi raccomando Vasali in tutti i link In descrizione Facebook e Instagram Diciamo come al solito A un prossimo video Mi raccomando Non mancate oggi Alle due appuntamento Fondamentale Per il raduno sul server Ciao a tutti ragazzi